Giuseppe Semeraro, organizzatore di eventi, parliamo della serata dedicata ai cori natalizi, un fascino che ci fa sentire più buoni perché queste note fanno parte della nostra tradizione e ci inteneriscono tutti, è anche questo il senso del Natale, essere più buoni. Sì, è un piacere collaborare con l'amministrazione comunale di Leporano, con il sindaco Angelo D'Abramo, con l'assessore Giovanni Dolotta, che ha voluto inserire nella programmazione degli eventi questo esclusivo evento che è la prima rassegna delle corari parrocchiali. Già come questo per primo anno è già un successo perché aver raccolto, oltre alla coralla di Leporano, che fa da padrono di casa, quella del santuario, la nostra signora di Fatemi, di Talsano, quella di Faggiano e quella di Grottaglie, apre in questo clima di riflessione ma anche di preghiera l'atmosfera natalizia. È certamente positivo vedere l'associazionismo al fianco delle istituzioni. Sì, e le clima anche gli effetti della programmazione, della collaborazione, perché poi le amministrazioni comunali per tracciare un percorso culturale si devono sempre interfacciare con le associazioni e grazie a Dio Leporano è un riferimento prezioso per tutta la provincia di Tano, per tante iniziative che fa durante l'estate, ma anche a Natale riesce a rappresentare questi eventi che arrischiscono e fanno diventare sempre i punti di riferimento dell'area ionica.